Tra poco il notiziario di ETV, tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. Per la tua pubblicità su ETV Rete7, chiama 051-6381-819. Due fratelli di 15 e 24 anni sono stati denunciati dalla polizia locale Reno Galliera che li ha bloccati al termine di un movimentato inseguimento terminato con lo schianto contro il muro di una recinzione del Center Gross. Erano su una Mercedes che continuava a circolare nonostante fosse stata radiata dalla motorizzazione civile con a bordo vari arnesi da scasso. Nella fuga avevano raggiunto i 150 km orari facendo sorpassi azzardati e rotatori a contromano. Dalla necessità di trovare alloggi per gli studenti al nuovo poliambulatorio del pilastro che sarà ampliato e rinnovato, il punto del sindaco Matteo Lepore su diversi temi a margine dell'inaugurazione dei nuovi appartamenti Acer in San Donato. Scuola, sanità, logistica ma soprattutto il trasporto pubblico, tanti settori che domani funzioneranno a singhiozzo per uno sciopero generale di 24 ore indetto dai sindacati di base. Domani bussa a singhiozzo dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio, prevedibili disagi. Lo shopping degli stranieri sotto le due torri resiste e sta tornando gradualmente ai livelli pre-covid, lo dicono i dati Banca Italia, riportati oggi nella tappa locale del forum Shopping e Turismo, promosso da Risposte e Turismo nella sede di Confcommercio. Nei negozi si parlano più lingue e si inizia ad accettare valute anche diverse dall'euro. Angelo Branduardi ripercorre la sua carriera in un libro intitolato Confessioni di un malandrino che ha presentato ieri sera in Sala Borsa. All'inizio è stato difficile ma ho sempre agito in base all'istinto e al mio piacere. Ha spiegato il cantautore e questa sera Branduardi terrà un concerto al Teatro Duse. Buonasera e ben ritrovati. Due fratelli di 15 e 24 anni entrambi con vari precedenti per reati predatori sono stati denunciati dalla polizia locale Reno Galliera al termine di un movimentato inseguimento andato in scena sulla via Saliceto concluso all'interno del Center Gross. I due erano a bordo di una Mercedes che risultava radiata dalla motorizzazione. L'inseguimento è finito così con lo schianto contro il muro di una recinzione del Center Gross. A bordo dell'auto una Mercedes che continuava a circolare nonostante fosse stata radiata dalla motorizzazione civile di Milano c'erano due fratelli, uno dei quali appena 15enne, mentre quello la guida ha 24 anni. Entrambi sono stati denunciati per una lunga serie di reati, resistenza pubblico ufficiale, ricettazione, possesso ingiustificato di arnesi da scasso dagli agenti della polizia locale Reno Galliera che li hanno intercettati l'altra mattina nei pressi del cimitero di Bentivoglio. Quella Mercedes era conosciuta al comando perché era già sfuggita a un controllo di una pattuglia una decina di giorni fa allontanandosi ad alta velocità. I due fratelli ci hanno provato anche questa volta, invertendo bruscamente il senso di marcia e compiendo una serie di manovre pericolose, tra sorpassi azzardati, rotatorie fatte contromano con punte di velocità di oltre 150 km orari lungo la provinciale Saliceto, in quel momento molto trafficata. Quando si sono immessi ancora contromano nella viabilità interna del Center Gross, la corsa è terminata con lo schianto contro il muretto in cemento armato di una recinzione. Gli agenti della Reno Galliera hanno faticato a bloccare i due che hanno posto una violenta resistenza, entrambi avevano vari precedenti di polizia anche per reati predatori, non escluso che la vettura, sulla quale c'erano diversi grimaldelli, venisse utilizzata proprio con quello scopo. La Mercedes, gravemente danneggiata nell'incidente, è stata sequestrata per la successiva confisca. Oltre alle denunce, l'autista 24enne è stato sanzionato per le svariate violazioni al codice della strada dovute ai comportamenti pericolosi tenuti durante la fuga. Agli agenti della polizia locale Reno Galliera, guidati dal comandante Massimiliano Galloni, che ha coordinato l'intervento, sono arrivati i complimenti della sindaca di Argelato, Claudia Muzic, per avere gestito con enorme professionalità una situazione complessa e pericolosa, anche per l'incolumità dei cittadini che hanno incontrato sulla loro strada quest'auto in fuga, terminata con lo schianto che per fortuna non ha coinvolto altri mezzi. Un ringraziamento è andato anche agli operatori del Center Gross che hanno supportato la polizia locale. Si è risolto solo nel tardo pomeriggio di oggi, dopo quasi 24 ore, il problema di viabilità provocato a Castenaso da un tir cisterna a carico di vino, il cui autista è risultato poi ubriaco e finito fuori strada dopo aver perso il controllo del mezzo. Le operazioni di recupero del camion sono state infatti lunghe e complesse. Guidava ubriaco l'autotrasportatore che ieri sera al volante di un'autocisterna, che ironia della sorte trasportava ettolitri di vino, è finito fuori strada mentre percorreva via Marano a Castenaso. Il mezzo pesante si è ribaltato sul lato destro della carreggiata ed è rimasto lì per quasi 24 ore, creando non pochi disagi alla circolazione a causa della complessità delle operazioni di recupero. L'incidente è avvenuto ieri sera e ha causato il ferimento del camionista portato in ospedale con ferite non gravi. Gli accertamenti dei carabinieri sul posto insieme a polizia locale, vigili del fuoco e volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Castenaso hanno confermato i sospetti dei primi soccorritori intervenuti. L'autotrasportatore era in stato di ebrezza e forse proprio per questo ha perso il controllo del mezzo. Sarà sanzionato e rischia anche una denuncia se gli esami dovessero confermare un tasso alcolemico elevato. Vista la mole della cisterna che capovolgendosi ha anche perso parte del carico di vino, i tempi per la rimozione e il ripristino della viabilità sono stati piuttosto lunghi e via Marano, nel tratto tra via 21 Ottobre e via della Pieve, è rimasta bloccata anche per gran parte della giornata di oggi. Poco dopo mezzogiorno sono cominciate infatti le operazioni da parte della ditta Grossi per il recupero del mezzo pesante, operazioni che hanno richiesto diverse ore di lavoro anche per la necessità di scaricare il carico di vino, sollevare il tir con un'apposita gru e infine caricare il rimorchio che aveva i due semiassi posteriori rotti. Solo nel tardo pomeriggio, terminate le operazioni, la strada ha potuto essere riaperta. Due cittadini tunisini già con precedenti sono stati arrestati ieri dalla polizia che le ha trovati in possesso di quasi 800 dosi di droga già confezionate, 643 di eroina per circa 270 grammi e 130 di cocaina per altri 40 grammi. L'operazione è frutto di una serie di servizi di osservazione nei pressi di un appartamento in zona Masserenti, individuato come base logistica dei due pusher, che usavano l'alloggio di un loro conoscente tossico dipendente. La droga, valore al dettaglio sui 20 mila euro, era destinata, secondo la polizia, al mercato dello spaccio al dettaglio della movida cittadina, fra il centro storico, la zona universitaria e la Bolognina. E' andata male al rapinatore che ieri sera ha tentato un colpo alla farmacia Lois di via Barbieri, zona Bolognina. Prima è stato messo in fuga da una delle farmaciste che si è messa a gridare, poi è stato arrestato dai carabinieri. In manette è finito un 27enne originario di Roma, residente a Bologna, con il volto nascosto da sciarpa e berretto, è entrato nel negozio e ha minacciato la farmacista con un coltello chiedendo l'incasso. Le urla della donna e il sopraggiungere di un altro collega da retro lo hanno fatto desistere. Si è allontanato a piedi, ma poco dopo è stato intercettato da una pattuglia dei carabinieri. Dall'emergenza all'oggi per gli studenti che scelgono di frequentare l'Università Bologna, i quali servono risposte immediate al futuro dello stabile che è stato occupato in via Capo di Lucca. Il sindaco Matteo Lepore, a margine di una iniziativa in via Beroaldo, ha fatto il punto su diversi temi e ha annunciato anche la riqualificazione del poliambulatorio del pilastro. Sentiamo. Ancora una protesta dei collettivi ieri davanti a Palazzo Albergati. Attivisti del CUA hanno sfilato lungo via Nosadella raggiungendo l'edificio dove è allestita una mostra con opere di TV Boy, Iago e Banksy. Lo stabile era presidiato dalle forze dell'ordine. Obiettivo era l'autoreduzione del biglietto d'ingresso e, in generale, il mantenere alta l'attenzione sui temi come l'emergenza abitativa. Agli studenti in cerca di alloggi servono risposte. Lo ha ribadito, a margine dell'inaugurazione dei nuovi alloggi Acer in via Beroaldo, anche il sindaco Matteo Lepore. È un tema alla nostra attenzione. Ci stiamo lavorando insieme alla vice sindaca Emily Clancy. Il nostro piano casa prevede una collaborazione stretta con l'università e in questo mandato saremo in grado di dare delle risposte che la comunità degli studenti si aspetta. Teniamo sempre presente che Bologna è la città nella quale l'università pubblica sta crescendo come numeri e quindi noi abbiamo un compito che è quello di dare le risposte che altre città e altre università italiane non stanno dando e vogliamo essere all'altezza di questa sfida. Sempre nell'ottica di un abitare solidale e inclusivo è ancora aperto il capitolo di Casa Vacante. Lo stabile dell'Asp di Via Capo di Lucco, occupato dal collettivo Luna, la liberazione da parte degli attivisti è legata a un progetto dedicato all'edilizia sociale. Lepore ha ribadito il percorso tracciato dal comune. A Capo di Lucco è già stata tolta dal piano di allenazioni e lì stiamo lavorando per un progetto di concessione attraverso una procedura di evidenza pubblica e quindi lavoreremo in questa direzione. In tema di riqualificazioni, nella settimana dedicata dal primo cittadino al quartiere San Donato-San Vitale c'è anche il futuro del pilastro con la riqualificazione nel poliambulatorio. È un quartiere che ha bisogno della nostra attenzione e rafforziamo infatti i servizi socioeducativi anche riqualificando nella zona del pilastro il poliambulatorio. Come la casa della comunità di Savena fa parte dei finanziamenti PNRR quindi verrà completamente riqualificato e restituito alla cittadinanza come nuovo e anche leggermente allargato. Taglio del nastro questa mattina in San Donato a Bologna per i nuovi loggi di Acer. Si tratta di 37 appartamenti che troveranno spazio in quattro edifici, sorti tra le vie Beroaldo, Borelli e Ungarelli realizzati seguendo i criteri della sostenibilità per risparmiare sui costi dell'energia e dell'accessibilità. Ah, dal 2008 e dal 2009 sì, che aspettiamo una casa comunque che va bene per le nostre esigenze. Quanti siete in famiglia? Siamo in quattro, noi tre, più mia sorellina che è adesso a casa con la fisioterapista che è disabile. Come avete accolto la notizia dell'assegnazione? Quando abbiamo visto le planimetrie, molto carina la casa, quindi siamo riusciti ad arrivare alla soddisfazione quella che ci serviva. È la voce di una famiglia alla quale Acer ha assegnato uno dei 37 nuovi appartamenti realizzati in via Beroaldo, alloggi di ultima generazione in un intervento che prevede tra le vie Beroaldo, Borelli e Ungarelli quattro stabili raggruppati a due a due, investimento da 7,5 milioni di euro. Entro la fine dell'anno altre famiglie traslocheranno negli appartamenti, inaugurati questa mattina dal sindaco Matteo Lepore e dalla vice sindaca Emily Clancy. L'intervento rappresenta davvero la direzione di lavoro dell'assessorato alla casa del prossimo mandato, nel senso che è un edificio da un'ottima performance energetica e accessibile completamente ognuno dei suoi alloggi. Questo è molto importante perché è proprio nelle case popolari che troppo spesso vediamo il crescere della povertà energetica. Quindi contrastare la povertà energetica a partire dalle fasce più fragili della popolazione deve necessariamente essere la direzione di lavoro delle politiche abitative di un'amministrazione pubblica e per questo è particolarmente importante questo intervento. Terminare un cantiere in questo momento è davvero un risultato straordinario. Classe energetica, efficienza quindi altissima, cappotto termico, impianti fotovoltaici, ma soprattutto anche accessibilità. Quindi queste alloggi qui saranno fatte delle assegnazioni soprattutto per quelle persone che hanno dei problemi di disabilità e quindi sono tutti quanti accessibili e questo ci permette anche di dare una risposta vera e concreta in un momento difficile alle persone che sono in difficoltà. Cambiamo argomento. Mentre Ellis Line prepara la candidatura ufficiale di cui darà l'annuncio probabilmente domenica prossima, la campagna per le primarie di Stefano Bonaccini entra nel vivo con l'apertura di un nuovo canale ufficiale con il quale è possibile contattarlo e fornire un contributo di spunti e idee. Con l'inaugurazione oggi del suo sito internet la campagna elettorale del candidato alla segreteria PD Stefano Bonaccini entra nel vivo. Lo annuncia lo stesso Bonaccini sul suo profilo social precisando di voler usare questi canali telematici per avviare un confronto continuo con i cittadini e raccogliere il meglio delle idee per la guida del partito e del paese. Abbiamo aperto oggi un canale ufficiale www.stefanobonaccini.it proprio questo nel quale troverete la possibilità di iscrivermi, di iscriverci e di portare ogni contributo che vorrete. Sarete contattati, verrà catalogato e ogni spunto vi garantisco che non verrà perduto. Partirà tra pochi giorni una sfida che vuole portare l'ascolto in giro per tutta l'Italia. Vogliamo raccogliere il massimo di disponibilità da tante donne, uomini, ragazze e ragazzi che sono convinto ci siano sia nel Partito Democratico sia all'esterno del Partito Democratico ma che non vogliano far mancare la propria voce per darci una mano a costruire un Partito Democratico più forte, più robusto, più aperto al contributo di tutti, al contributo di tanti che magari in questi anni non l'hanno potuto fare. Abbiamo bisogno di una vera e propria energia popolare. La pagina sindacale, scuola, sanità, logistica e soprattutto il trasporto pubblico tanti settori che domani funzioneranno a singhiozzo per uno sciopero generale di 24 ore indetto dai sindacati di base. Disagi in vista per la giornata di domani venerdì 2 dicembre a causa di uno sciopero generale nazionale di 24 ore indetto dalla galassia di sindacati di base per l'introduzione del salario minimo per i rinnovi dei contratti e contro le discriminazioni e le privatizzazioni e la guerra in Ucraina. Diversi settori interessati, dalla sanità alla scuola, dalla logistica ai trasporti. Per quanto riguarda quest'ultimo settore, in Emilia Romagna saranno garantiti collegamenti regionali di Trenitalia e Trenitalia Tiper nelle fasce pendolari dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Nel resto della giornata resteranno comunque possibili alcune modifiche al programma dei treni. Regolari invece i servizi Frecciarossa e Intercity. Per quanto riguarda il trasporto bus nella città di Bologna, non saranno garantiti i normali servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio. Lo sciopero riguarda anche il personale della Marconi Express, il cui servizio potrebbe non essere garantito per l'adesione allo sciopero dei lavoratori. Disagi si annunciano per adesioni allo sciopero anche nel mondo della scuola. Può non essere garantito il regolare svolgimento del servizio scolastico, sia in relazione alle attività educative e didattiche, sia in relazione al servizio di custodia e vigilanza. Cortei e presidi sono previsti in diverse città italiane a Bologna. È in programma un concentramento di manifestanti alle 10 in piazza 20 Settembre, da dove partirà un corteo verso il centro della città. Dalla tappa sotto le due torri del forum Shopping e Tourism emerge che i negozi del centro sono sempre più frequentati da turisti e la situazione sta gradatamente tornando al periodo pre-Covid. A Bologna nei negozi del centro entrano sempre più turisti e si parlano più lingue. L'inglese il 96%, francese nel 38% dei negozi e lo spagnolo al 29%, seguono tedesco e russo con un 10% a testa. Nei negozi si accettano anche valute diverse dall'euro, anche se solo nel 17% dei casi. È lo spaccato che emerge dalla tappa locale del forum Shopping Tourism, promosso da Risposto e Turismo, nella sede di Confcommercio Ascom Bologna. Qui a Bologna abbiamo notato nella nostra indagine presso i negozi una grande consapevolezza dell'importanza e della rilevanza dello Shopping Tourism. Basti notare che circa il 40-42% del totale dei clienti dei negozi è rappresentato da turisti. Come tappa conclusiva del forum dello Shopping Tourism abbiamo presentato anche una serie di risultati del nostro monitor di ricerca. Ogni anno aggiorniamo dei numeri sulla domanda e sull'offerta di Shopping Tourism. Partiamo dall'offerta, un'offerta consistente in Italia, con più di 26 outlet, il secondo paese in Europa dopo il Regno Unito. Più di 60 department store che rappresentano altri luoghi dello shopping in centro città. Ma molto ben organizzate sono anche le vie dello shopping e quindi strade dove insistono dei negozi che oramai sono rappresentati da loro associazioni che fanno attività, che fanno eventi e cercano appunto di coinvolgere i turisti, di attirarne la loro attenzione. Dopodiché il travel retail con grandi investimenti nelle stazioni o nei grandi aeroporti italiani, lì dove l'offerta commerciale è diventata molto più ricca e molto più articolata. Tutto questo, tutti questi luoghi dell'offerta unitamente a tutto un sistema complesso di servizi sono la condizione essenziale affinché la domanda di Shopping Tourist possa essere attirata in Italia. E proprio su questa domanda noi abbiamo fatto anche una nuova proiezione, ci eravamo fermati per così dire ad un numero comunque consistente di 2 milioni di Shopping Tourist attratti in Italia nel 2019, ebbene possiamo dire che nel 2023 la stima di risposta di turismo è di andare ben oltre i 2 milioni di Shopping Tourist attratti dall'Italia come destinazione. E' morto a 95 anni Francesco Pirini, uno degli ultimi reduci di Marzabotto, per tanti anni ha incontrato i gruppi in visita ai luoghi della strage in cui perse 14 familiari raccontando la storia della sua vita come testimonianza con parole semplici ma di grande profondità. Inizialmente diceva di non poter perdonare ai tedeschi quanto è accaduto alla sua famiglia, ma poi trovandosi di fronte tanti giovani delle scuole ad un certo punto spiegò che non se la sentiva più di portare avanti la logica dell'odio. E proprio accompagnando i ragazzi è iniziato un personale percorso verso il perdono che alla fine confermò per tutti i responsabili tedeschi dell'Ecidio di Montessolo nel 2006 quando fu chiamato a testimoniare al Tribunale Militare di Laspezia al processo nei confronti di 17 ufficiali e di grandissimo coraggio morale, intelligenza e umanità. Lo ricorda il deputato PD Andrea De Maria, ex sindaco di Marzabotto. Il calcio continua alla preparazione del Bologna in vista della ripresa del campionato a gennaio per il Rosso Blu sono in programma una serie di amichevoli a Casteldebole, una trasferta in Spagna. Tutte le partite che il Bologna disputerà al centro tecnico Nicolò Galli saranno trasmesse integralmente in differita su ETV. Dicembre di amichevoli per il Bologna in vista della ripresa del campionato che prevede per il Rosso Blu la trasferta all'Olimpico contro la Roma del 4 di gennaio. Per prepararsi alla seconda parte della stagione alcuni incontri al centro tecnico Nicolo Galli che ETV trasmetterà in differita. Si comincia con l'amichevole con la primavera in programma venerdì a Casteldebole che trasmetteremo sabato 3 dicembre alle 17. Sempre al centro tecnico Nicolo Galli i Rosso Blu affronteranno il Kaffenberg della seconda divisione austriaca. Su ETV andrà in onda sabato 10 dicembre alle 17. La settimana successiva il 17 dicembre, ancora alle 17, trasmetteremo l'amichevole con l'KNK Gorica della prima divisione croata. Tutte le partite saranno in replica alle 23.30 del sabato. Per il Bologna di Tiago Motta anche una breve trasferta in Spagna per incontrare il Mallorca, mercoledì 14 dicembre. Tanti appuntamenti per farsi trovare pronti alla ripresa di questo strano campionato. E parliamo della nostra programmazione. Questa sera alle 21 su ETV Andrenondo è una puntata speciale di Daedalus interamente dedicata alla Bologna Luciros e faremo un viaggio come sempre attraverso le storie, le curiosità e le leggende della Bologna del passato. Vediamo una breve introduzione. Senti Anna, ma se io ti dico il personaggio di un imprenditore nella storia del cinema italiano, con che accento lo faresti parlare? Ah, io lo farei sicuramente parlare milanese. E secondo voi un industriale del mio livello dovrebbe sponsorizzare questa squadra di Desperados? I cinque calciatori dell'Apocalisse? Ma a me sono megamater! E se, non so, una persona che invece è di braccino un po' corto, che fa fatica a tirar fuori i soldi? Direi genovese. A volte li vedi, vedi, oh, si può bere un po' di pane? Ma che te lo vai a comprare? Non è che nasce sotto i tavoli il pane. E se ti facessi rappresentare una prostituta invece con che accento la faresti? Eh, è proprio un bel accento bolognese, per dire la verità. Anch'io. Non abbiamo ancora mai mangiato insieme una volta. Lo devo accettare come un invito. No, guardi che io non l'avevo nessun incontro. Ha scelto volentieri? Vogliamo parlare della cosiddetta Bologna a luci rosse. Non della Bologna a luci rosse di oggi, che non ci interessa, ma del perché, appunto, come vi abbiamo spiegato in questo breve dialogo, nell'immaginario collettivo Bologna è sempre legata a una città gaudente, godereccia, trasgressiva in qualche modo e lo è da secoli. Sarà vero o non sarà vero? Insomma, Anna ci aiuterà a capirlo e a dipanare attraverso il solito percorso per luoghi e storie che siamo soliti proporvi a Dedalus. Questa sera dunque è l'Eventuno Dedalus ed ora ci prendiamo per un break e poi parleremo di musica. Tra pochissimo. Riqualificazione delle periferie tra architetture e socialità. Confabitare da sempre attenta alla riqualificazione delle periferie e alla qualità dell'abitare. La Convention sarà un momento di confronto con gli esperti. Vi aspettiamo venerdì 2 dicembre dalle ore 14 alle ore 19 presso l'Hotel Savoy Regency di Bologna. Interverranno nomi illustri del panorama politico, delle associazioni e degli ordini professionali con la partecipazione straordinaria del Vice Ministro Galeazzo Bignani e del Sottosegretario Vittorio Sgarbi. Sono il gatto con gli stivali! La leggenda non muore ma... Sono rimasto con l'ultima vita. Che è successo alle altre otto vite? Mira! Mira! Vuoi ci sono il crostoccio? Sì, signore. Kitty, ho fatto un disastro. La stella del desiderio può ridarmi le mie vite. Quando mi metto con te va tutto storto. Fidati di me. Devi fidarti di lui! Guarda quegli occhietti! Quelli ti sembrano carini? Con le zampette! Posso farci, Laura? Ti farai venire un'ernia. Il gatto con gli stivali 2 è l'ultimo desiderio. Tra i più importanti saloni di Bologna da oltre 25 anni, Magica Parrucchieri è molto più di un hair stylist. Uno staff giovane e dinamico all'interno di un concept store al servizio della tua immagine per la cura e la bellezza dei tuoi capelli. In una location dedicata troverete ad accogliervi la professionalità di estetica Lara. Rimani sempre aggiornato seguendo Magica Parrucchieri anche su Facebook e Instagram. Magica Parrucchieri ed estetica Lara. Via Procaccini 10. Telefono 051 36 16 12. 051 36 16 06. Scusate, mi stavo preparando, stavo studiando per la prossima puntata di Daedalus in cui parleremo della Bologna trasgressiva, la Bologna gaudente, la Bologna a luci rosse nei decenni passati ma anche nei secoli passati. Ne parleremo giovedì sera alle 21 sui TV Rete 7 a Daedalus. Continuo a prepararmi. Riqualificazione delle periferie tra architettura e socialità Confabitare da sempre attenta alla riqualificazione delle periferie e alla qualità dell'abitare. La convention sarà un momento di confronto con gli esperti. Vi aspettiamo venerdì 2 dicembre dalle ore 14 alle ore 19 presso l'Hotel Savoy Regency di Bologna. Interverranno nomi illustri del panorama politico, delle associazioni e degli ordini professionali con la partecipazione straordinaria del Vice Ministro Galeazzo Bignani e del Sottosegretario Vittorio Sgarbi. Di nuovo in studio il cantautore Angelo Branduardi ripercorre la sua carriera in un libro intitolato Confessioni di un malandrino che ha presentato ieri sera in Sala Borsa e questa sera Branduardi terrà un concerto al Teatro Duse. Angelo Branduardi ha deciso di ripercorrere 50 anni della tua carriera. Perché questa decisione? Di più, da quando ho iniziato. Da quando ho iniziato, io ho iniziato a 5 anni, quindi sono parecchi di più. 50 anni di carriera ufficiale, ma io ho iniziato a suonare a 5 anni e per la prima volta in pubblico a 11. Il perché non lo so, a me non passava nemmeno per la mente. Poi Zuffanti, Fabio Zuffanti che è il coautore ed Elisabetta Sgarbi evidentemente avevano sentito delle interviste. Io ho avuto una vita molto avventurosa partendo da Via Preda, da Genova, dall'Angiporto attraverso molte avventure. Insomma è un libro divertente, non ha pretese didattiche. ho tralasciato, infatti dicevano ma forse è un po' poca la musica. Cioè ho cercato di, non interessa a nessuno che io metto la settima dell'accordo. Non interessa a nessuno. Quindi è un libro divertente e infatti ha avuto successo anche per quello perché non è la solita autobiografia dove si va a cercare il pelo nell'uovo, del pezzo che, ripeto, la musica si spiega da sé. Come dice Dante, la musica è rapimento, quindi non ha bisogno di spiegazione. Racconti un po' tutte le tue avventure, le tue sperimentazioni perché tu hai sperimentato molto nel campo musicale. Ho fatto un po' di tutti i colori. All'inizio è stato difficile, ho fatto delle cose belle, ho fatto delle cose meno belle, però sempre in base all'istinto e al mio piacere. Sei stato anche coraggioso perché alla Fiera dell'Est te la sei prodotta da solo. Sì, me la sono prodotta da solo. Ce la siamo pagati io e Davide Zard. Hai mischiato molto, sei passato dalla musica classica, anche al sacro, la dimensione sacra è importante per te. Non sei mai stato legato a uno stereotipo del successo? Cos'è il successo? Il successo capita quando sei sincronico, quando la gente sente e dice 8, era nell'aria. Ecco, questo è il successo. E continuiamo a parlare di musica. il farmacista e cantautore Federico Icardi si è esibito ieri sera al Teatro Duse. Ha cantato le canzoni che lo hanno reso popolarissimo tra gli studenti, ma non solo, ma anche i brani di altri cantautori. Tutto esaurito ieri sera al Teatro Duse per Federico Icardi che ha travolto i presenti con la sua musica e la sua passione. Federico Icardi, grande concerto al Duse, è stato un po' il punto più alto della tua carriera finora, dai. Assolutamente, a parte la serata dell'aprile del Gregorio, ma questo era un concerto proprio mio, è stato bellissimo il pubblico, superi, quando non ci lasciavano andare via, mille bis, non volevamo che andassimo via, è stata una cosa veramente entusiasmante. Guarda che sono tutti i ragazzi qua, superi, sia i giovani si seguono con queste cose, queste canzoni sulla città, eccetera, è stato molto bello. E' soddisfatto, hai dato il massimo? Molto soddisfatto, meglio di così non poteva andare, troppo bello. Hai fatto le due canzoni e anche qualche altra canzone di qualche altro cantautore? Qualche cover, quelle che piacciono ai ragazzi, capito, però anche l'Invia abbiamo fatto un 60% di miei canzoni e restanti cover cantabili, come Il Pescatore, Rimmel, quelle di Guccini, belle, così, è stato divertente. Poi ci ripeteremo, rifaremo altre cose, altri concerti di questo genere, altrove, forse a Rimini, a Ferrara, eccetera. I obiettivi futuri adesso? Continuiamo, sì, sì, continuiamo, in tutta la regione. Magari in tutta Italia. Speriamo, adesso vediamo. Partiti dall'autobus turistico, è stato molto divertente, è stato molto divertente. Può essere, diciamo, una svolta per la tua carriera. Esatto, sì, molti erano partiti da Bologna, mi ricordo Guccini che diceva che lui sono sempre in pratello, poi dopo cominciava a fare i palazzetti, adesso ogni volta viene il doppio delle persone. Poi c'è la canzone sulla studentessa spagnola, vieni qua, che è proprio qua la studentessa spagnola, guarda, è lei. Vieni, vieni qua, vieni qua. Ti presenta la studentessa spagnola, entra nella telecamera, e lei è l'opportunista. È proprio lei? Sì, è lei. Sono proprio io? Esatto, sì, 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 la studentessa spagnola. Grazie. Prendi spunto dalla vita quotidiana. Prendi la vita quotidiana di Bologna per fare le canzoni, certo. E prima di chiudere, rivediamo insieme i titoli del nostro giornale. Due fratelli di 15 e 24 anni sono stati denunciati dalla polizia locale Reno Galliera che li ha bloccati al termine di un movimentato in seguimento terminato con lo schianto contro il muro di una recinzione del Center Gross. Erano su una Mercedes che continuava a circolare, nonostante fosse stata radiata dalla motorizzazione civile, con a bordo vari arnesi da scasso. Nella fuga avevano raggiunto i 150 km orari, facendo sorpassi azzardati e rotatori a contromano. Dalla necessità di trovare alloggi per gli studenti al nuovo poliambulatorio del pilastro, che sarà ampliato e rinnovato il punto del sindaco Matteo Lepore su diversi temi, a margine dell'inaugurazione dei nuovi appartamenti Acer in San Donato. Scuola, sanità, logistica, ma soprattutto il trasporto pubblico e tanti settori che domani funzioneranno a singhiozzo per uno sciopero generale di 24 ore indetto dai sindacati di base. Domani bussa a singhiozzo dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio. Prevedibili disagi. Lo shopping degli stranieri sotto le due torri resiste e sta tornando gradualmente ai livelli pre-Covid, lo dicono i dati Banca Italia, riportati oggi nella tappa locale del forum Shopping e Tourism, promosso da Risposte e Turismo nella sede di Confcommercio. Nei negozi si parlano più lingue e si inizia ad accettare valute anche diverse dall'euro. Angelo Branduardi ripercorre la sua carriera in un libro intitolato Confessioni di un malandrino che ha presentato i riseri in Sala Borsa. L'inizio è stato difficile, ma ho sempre agito in base all'istinto e il mio piacere ha spiegato il cantautore e questa sera Branduardi terrà un concerto al Teatro Duse. Ed è tutto con questa edizione. Grazie per essere stati con noi. Tutti voi una buona serata. Arrivederci. Da oggi l'informazione di ETV Rete7 è disponibile gratuitamente sul tuo smartphone e potrai accedere a tutte le video news prodotte nel corso della giornata in tempo reale.